Hai bisogno o vuoi cambiare macchina? La F-Cars SRL è una società gestita da personale con esperienza nel settore oltre ventennale. Ci puoi trovare a Cuneo, Circonvallazione Nord numero 2, in un'area di 2000 metri quadri. Info 334-843-8833 oppure scrivi una mail a info-fcars.it Attenzione, ci trovi anche su Facebook come F-Cars, la tua macchina ti aspetta. Alessandro Schiffer presenta Il Club, il programma che muove. Le novità dai clubs di tutto il mondo, con i generi musicali del momento. Il Club, solo sulla tua radio. L'ultimo appuntamento della settimana, una settimana volata via anche con il suo San Valentino. Oh, tra l'altro lo sapete che adesso dopo San Valentino arriva il giorno dell'infedele, the day of infidel. Si festeggia anche quello, comprate i baci, all'interno i bigliettini sono tutti uguali. C'è scritto Tisgamo, ecco, non ti amo, Tisgamo, perché in effetti prima o poi vengono beccati. In ogni caso, io sono Alessandro di La Chai Man, l'uomo alla regia del missaggio. Questo è Il Club e si parte subito con il primo brano. B. Crew, creatura di Barbara Tucker, Charlotte Small, Karen Golden, Ramona De Sosa, oltre una te, tutte queste donne insieme, B. Crew, per un brano conosciutissimo. Promise Land, Joe Smith, Mickey Moore, and Andy T, mettono le mani sopra ed è un lavoro bellissimo. Primo disco. In a world with so much trauma, you must believe in the promise of love, the promise of one. Don't give up, believe. Uncu boller Uncu boller Uncu boller Grazie a tutti. 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 Qualcuno noterà che è lento, lo so, ma io e la mia amica Gloriana lo abbiamo sempre ballato così e quindi tutto sommato continuo a farlo. Gloriana, ovunque tu sia, io lo metterò sempre a 123. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 I want to thank you. 1984. Alicia Myers. Il suo album successivo si intitolava Alicia Again, pubblicato più tardi nello stesso anno. Non è riuscito però a ripetere il successo del precedente. Quindi il grande successo rimane questo. L'abbiamo ascoltato. Era il super golden e adesso piccola pausa caffè. Ritorniamo subito. La tua carica di energia si chiama Il Club sulla tua radio. Hai bisogno o vuoi cambiare macchina? La Fcars SRL è una società gestita da personale con esperienza nel settore oltre ventennale. Ci puoi trovare a Cuneo, Circonvallazione Nord numero 2, in un'area di 2000 metri quadri. Info 334 843 8833 oppure scrivi una mail a info-fcars.it Attenzione, ci trovi anche su Facebook come Fcars. La tua macchina ti aspetta. Le novità dai clubs di tutto il mondo con i generi musicali del momento. Il Club, solo sulla tua radio. Key Man alla regia. È il tuo club. Il Club 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 Grazie a tutti. 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 Nice and Nasty. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.